duecentonove non è niente di grave duecentodieci non sono uno stupido duecentondici io dico io è tuo duecentododici è difficile duecentodredici è gratuito duecentododici è gratuito duecentododici duecentodododici è tutta mia è culpa mia duecentododici è culpa mia E' giusto dire così? E' giusto dire così? Duecento venti Lei era il problema Duecento ventuno È stato eccezionale Duecento venti due 저도 즐거웠어요 별거 아니에요 È stato un piacere Duecento venti tre È stata una giornata lunga Duecento venti quattro 그건 충격적이었어 È stato shockante Duecento venti È stato shockante Duecento venti È stato shockante